la signora portava la prima volta... e il figlio in campagna, il figlio portava in mano e comincia a far vedere la mucca, i conii, le galline, a un certo punto arriva davanti una staccionata c'è Stanzo Maro che c'è al cazzo dritto su un tubo della stufa, anche il ragazzino rimane un po' spaventato, si gira verso la mare fa mamma mamma quell'animale è malato e la madre per mano lo guarda e fa così magari c'era la tua madre con la malattia